buongiorno buongiorno con le stelle io sono monica amarillis e questa è la mia rubrica astrologica per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a info chiocciola monica amarillis.com buongiorno cari amici che seguite i miei oroscopi e buona settimana siamo nella settimana che va dall'otto al 14 maggio 2023 e c'è stato un evento significativo nello scorso weekend il 6 maggio alle 12 e 02 carlo l'ex principe carlo è stato incoronato re mi ha colpito la data scelta perché sostanzialmente quel giorno seguiva la notte di luna piena ma quella notte non solo c'è stata la luna piena e quindi in realtà il momento in cui re carlo è stato incoronato si trattava già ormai di luna decrescente e sappiamo che per l'astrologia mondana gli eventi sarebbe meglio organizzarli in luna invece crescente o comunque proprio in occasione della luna piena ma è stato anche scelto un momento in cui c'è stata un eclisse di luna normalmente le eclissi di luna sono considerate in fauste per questo genere di eventi che riguardano comunque eventi globali eventi della cosiddetta astrologia mondiale infatti mi è capitato di leggere un paio di articoli al riguardo che insomma avvertono l'ex principe carlo di una monarchia piuttosto difficile piena di cambiamenti e questo sicuramente visto che i tempi diciamo che il passo dei tempi sta accelerando sempre di più e questo lo si può vedere anche a livello astrologico ma in sostanza questi articoli prevedono una monarchia piuttosto instabile ebbene io non sono tanto d'accordo perché credo che in realtà i reali consultino sempre gli astrologi prima di decidere le date importanti mi è capitato di ricordare anche qua in questa nostra rubrica astrologica che non è da tutti i governanti sicuramente consultare gli astrologi però c'è stato un caso molto importante ovvero il presidente reagan negli stati uniti che consultava gli astrologi per qualsiasi cosa decidevano anche era soprattutto la moglie una grande appassionata di astrologia però sicuramente aveva coinvolto anche il marito ronald reagan e praticamente addirittura sceglievano anche il momento più adatto per organizzare le conferenze stampa con i giornalisti a seconda che volessero dare più rilevanza una notizia o invece la volessero far passare un pochino in sordina e quindi sceglievano il momento astrologico più adatto perché diciamo non venisse questa notizia raccolta con grande enfasi dal pubblico e devo dire che guardando il tema natale dell'incoronazione di re carlo che è stato incoronato esattamente il 6 maggio alle 12 e 02 a londra non posso fare a meno di notare che invece ci sono delle cose molto interessanti astrologicamente è un tema natale che secondo me funziona molto bene adesso so che molti di voi non sono esperti di astrologia quindi non entrerò nei dettagli basti pensare però che c'è un ascendente leone e leone ha un significato di regalità sole mercurio urano sono tutti nella decima casa che è quella che rappresenta il potere e hanno tutti dei begli aspetti con altri pianeti e la stessa luna che è appena come vi ho detto appena finito la sua fase di luna piena e anche di eclisse in realtà è ormai secondo me fuori dal dal cono dell'opposizione in realtà fa dei belli aspetti con nettuno e con marte in quarta casa che rappresenta la patria e quindi io direi che invece se io penso di sì se i reali si sono affidati degli astrologi hanno veramente studiato la carta possibile non ma la data e l'orario possibile con molta attenzione scegliendo tra le date possibili quella dove invece erano enfatizzati gli aspetti positivi quali sono invece gli aspetti più critici di questa carta di questa mappa natale della di recado dell'incoronazione ebbene ci sono due aspetti un po' difficoltosi che coinvolgono giove e sono il quadrato a t tra plutone giove e anche tra marte e giove con una larga opposizione tra marte e plutone tra la sesta e la dodicesima casa l'opposizione di mar tra marte e plutone e una quadratura che converge su giove nella nona casa ovvero l'estero mentre la sesta casa rappresenta il lavoro ebbene gli possibili problemi che potrebbero provenire a questa monarchia perlomeno al regno di carlo terzo sono proprio problemi collegati ai lavoratori e all'estero quindi il famoso commonwealth ecco potrebbe subire non dico un disfaccimento ma sicuramente un ridimensionamento durante la monarchia di carlo terzo dopo questa nota un po di costume e di colore passiamo a vedere come sarà questa settimana astrologica per noi comuni mortali non ci sono grandi eventi astrologici questa settimana una settimana piuttosto tranquilla vi ricordo dove si trovano i pianeti in questo momento plutone è sempre a zero gradi dell'acquario ma ha già cominciato il moto retrogrado la settimana scorsa per cui rimane su zero gradi ma torna un pochino indietro e a giugno rientrerà per un per qualche mese ancora nel segno dell'acquario nettuno è sempre nei pesci nell'ultima decade a 26 gradi esattamente urano passa dai 18 ai 19 gradi del toro saturno dai 5 ai 6 gradi dei pesci mentre giove si sta ormai avvicinando alla fine del segno della riete e vi ricordo che settimana prossima entrerà nel segno del toro ebbene si sposta dai 28 ai 29 gradi della riete marte dai 23 ai 26 gradi del cancro mentre venere che è entrata a settimana scorsa anzi domenica scorsa nel segno del cancro si sposta da 0 a 7 gradi del cancro e infine mercurio infine in pianeti veloci che vi ricordo è sempre retrogrado si sposta dai 7 ai 5 gradi del toro quindi è ancora in fase di retrogradazione e tornerà diretto settimana prossima infatti settimana prossima ci saranno varie novità astrologiche teniamoci cara questa settimana per essere un pochino più tranquilli il sole passa dai 17 ai 23 gradi del toro e la luna inizia questa settimana nel segno del sagittario e finirà la settimana nel segno dei pesci allora vediamo come queste posizioni dei pianeti si riflettono sull'andamento della nostra settimana cominciando dal segno della riete la riete soprattutto se cari siete nati nell'ultima settimana e meglio ancora negli ultimi giorni della riete la settimana andrà ancora molto bene perché giove sta ancora percorrendo gli ultimi gradi del vostro segno e la presenza di giove porta di solito abbondanza espansione fiducia in se stessi voglia di sfidarsi e di buttarsi negli eventi del mondo e quindi questo sarà probabilmente l'effetto che il pianeta dell'abbondanza avrà su di voi ovviamente purtroppo per voi si tratta di un passaggio piuttosto rapido rispetto per esempio a quanto hanno avuto i nativi della prima decade della riete perché giove si è fermato in quella decade più a lungo che nelle altre due e quindi approfittate datevi da fare questa settimana ancora perché poi il treno di giove passa e per qualche anno non lo vediamo più chi di voi è nato nei primi giorni del segno sente l'effetto plutone che dà fiducia in se stessi e coraggio capacità veramente di farsi forza e di andare avanti a livello di pianeti veloci invece la situazione non è il massimo perché abbiamo venere e marte in posizioni dissonanti rispetto al segno venere rispetto alla prima decade e marte rispetto all'ultima decade chi di voi appartiene alla seconda decade non ha effetti di alcun tipo e quindi diciamo che passerà una settimana magari poco entusiasmante un pochino noiosa ma di tutto riposo a livello emotivo la settimana inizia molto bene con una luna in un segno amico il sagittario quindi la vostra emotività sarà stabile e insomma il buon umore sarà assicurato mentre martedì e mercoledì con la luna in capricorno attenzione ai possibili malumori o ai piccoli conflitti nel vostro ambiente il buon umore viene recuperato giovedì e venerdì e poi non ci sono problemi durante il weekend nel toro in questo momento abbiamo visto ci sono il sole mercurio urano che sono tutti pianeti che dinamizzano sicuramente la settimana dei tori in modo piuttosto piacevole siete stimolati dal punto di vista dell'intelletto ma anche della dinamicità che invece di natura vi fa un po' difetto ma ci sono anche altri pianeti a voi positivi e prima di tutto dai pesci c'è il buon aspetto di saturno e di nettuno che quindi vi danno sia inventiva fantasia ma anche stabilità e capacità di perseverare e dal cancro il buon aspetto di marte di venere assicura anche non solo dinamismo soprattutto dal punto di vista di marte abbiamo quindi una bella spinta ad agire ad avere grande volontà e grande spirito d'iniziativa e dal punto di vista di venere che in questo momento sta agendo sulla prima decade abbiamo un'armonizzazione delle relazioni dei sentimenti anche uno spirito artistico maggiormente stimolato rispetto al solito vi ricordo che il vostro segno è sotto il dominio di venere quindi sicuramente siete molto artisti avete una grande capacità di discernere l'armonia di colore e di forme e in questo momento siete sicuramente maggiormente stimolati grazie all'aspetto di venere e di nettuno emotivamente le giornate migliori sono quelle di martedì e di mercoledì e anche sabato e domenica con la luna insegni a voi amici mentre attenzione alle giornate tra giovedì e venerdì con la luna in acquario quindi dissonante potreste avere qualche momento di down emotivo per i gemelli dopo mesi con dei buoni aspetti soprattutto da parte di saturno e di giove e adesso la situazione è un po ribaltata quindi fate attenzione gemelli a non buttarvi a capofitto in imprese rischiose di qualunque tipo avete ancora il favore di giove per questa settimana soprattutto se siete della terza decade mentre chi di voi è nato nei primi giorni del segno sente l'effetto plutone ovvero questa sorta di fiducia in se stessi nelle proprie risorse anche di scoperta di nuove potenzialità che vi aiuterà andare un po oltre i vostri limiti altri sostenitori tra i pianeti non ne avete perché in questo momento anzi saturno e nettuno sono in aspetto dissonante al vostro segno saturno per quanto riguarda la prima decade e nettuno per quanto riguarda l'ultima decade e creano dei piccoli contrasti quindi da un lato siete appoggiati da alcuni pianeti e contrastati da altri quindi diciamo che l'effetto è un po instabile per la prima e la terza decade mentre invece la seconda decade non riceve aspetti significativi e se la cava molto meglio ma diciamo che non ci saranno eventi particolari durante la settimana emotivamente la luna sarà in segni a voi non benefici il lunedì e durante il weekend quindi state un po accorti le giornate migliori sono il giovedì e il venerdì con la luna in un segno amico mentre martedì e mercoledì saranno in un segno neutro quindi sapete ora quando organizzare le cose importanti e le giornate da evitare al cancro in questo momento sta dando molto meglio dopo ricordiamo mesi anzi anni di difficoltà dovuti soprattutto all'opposizione di plutone che in questo momento si è allentata tra poco finirà anche l'aspetto dissonante di giove quindi abbiate pazienza ancora un pochettino soprattutto se siete nati nell'ultima decade d'altro canto in questo momento avete il sostegno di saturno e di nettuno e anche per voi si tratta di un sostegno che coinvolge la prima e la terza decade quindi nettuno da fantasia creatività capacità di vedere un po più lontano di avere una visione più ampia delle cose e questo coinvolge la terza decade mentre saturno amplifica la capacità di perseverare di costruire di avere dei progetti solidi che avranno successo nel tempo e questo riguarda la prima decade nel frattempo nel vostro segno stanno transitando venere e marte marte quasi alla fine del suo passaggio appunto nella terza decade ed ha comunque una bella dose di vitalità di energia rinvigorisce vi dà coraggio vi dà quella forza di risorgere mentre venere ovviamente ha un effetto soprattutto sulle relazioni sulla capacità intima di stare bene con se stessi e in questo momento sta portando quindi questa energia armonizzatrice a chi di voi è nato nella prima decade le giornate no a livello emotivo sono quelle di martedì mercoledì quando la luna transita nel segno opposto del capricorno le altre giornate della settimana sono un po neutre a parte il weekend che invece è molto buono perché la luna passa nel segno dei pesci che è un segno alleato al vostro e quindi se dovete fare qualcosa di importante cercate di organizzarlo sabato o domenica non solo avete il supporto anche di mercurio sole e urano dal segno amico del toro e sarà sempre saranno sempre la terza e la prima decade le più coinvolte però anche la seconda la perlomeno chi è nato nella fine della seconda decade avrà il supporto ancora di urano e quindi sicuramente se avete delle nuove iniziative potete lanciarvi senza troppi dubbi leone uno di quei segni che ha avuto degli anni difficili recentemente però la situazione si è alleggerita negli ultimi mesi soprattutto grazie al passaggio positivo di giove che ha ovviamente riguardato soprattutto la prima decade e negli ultimi mesi anche la seconda la terza decade sicuramente c'è stato un alleggerimento recentemente grazie al fatto che saturno si è spostato dall'opposizione ed entrata in una posizione neutra per i leoni però in questo momento ci sono i pianeti veloci nel toro ovvero sole mercurio anche urano ecco un altro pianeta che invece da anni sta un po battendo contro il leone e questo può significare un momento di stanchezza sicuramente per i nostri amici tori piccole difficoltà nella vita quotidiana piccoli impedimenti qualcosa che non gira nel modo giusto anche se avete ancora per questa settimana l'appoggio di giove quindi quel colpo di fortuna che vi può aiutare e in questo momento soprattutto se siete della terza decade mercurio è retrogrado e abbiamo visto recentemente quindi tutto il mese di maggio rimane in toro quindi per voi si tratta di una posizione dissonante e potrebbe causare qualche rallentamento ma anche qualche problema di comunicazione quindi fate attenzione cari tori in questo momento soprattutto se siete della prima decade a quello che dite e a come lo dite le giornate sì della settimana sono martedì e mercoledì e anche sabato e domenica fate attenzione invece a giovedì e venerdì con la luna in acquario ovvero in posizione dissonante anzi in opposizione al vostro segno quindi attenzione ai piccoli contrattempi e attenzione anche ai conflitti con il vostro ambiente con le persone intorno a voi gli amici della vergine sono molto sollecitati dai pianeti in questo periodo e anche questa settimana non fa eccezione e avete un po i pianeti diciamo che un paio sono contro ma avete ben cinque astri a vostro supporto quindi non lamentatevi cari amici della vergine anche se è vero l'opposizione di saturno e l'opposizione di nettuno che ormai dura da parecchi anni vi possono creare qualche difficoltà dei momenti di down dei momenti un filo magari di sconforto e depressione ma tenete duro perché avete dalla vostra parte mercurio che è il vostro pianeta governatore urano che è un altro dei vostri pianeti governatori e il sole ma non solo questi pianeti sono in toro ma dal cancro ci sono anche venere e marte che vi stanno dando supporto come per tutti i segni in questo momento sono la prima e la terza decade le più sollecitate mentre la seconda decade è sicuramente più tranquilla quindi vivrà una settimana più serena priva di eventi veramente importanti o significativi marte vi aiuta ad avere energia una bella dose di combattività se appartenete quindi alla terza decade e sollecita anche l'intraprendenza da tutti i punti di vista sia nel lavoro che anche nella vita sentimentale mentre venere protegge armonizza la vita relazionale e in questo caso ha effetto soprattutto su chi è nato nella prima decade la settimana inizia con la luna un po storta la luna in sagittario in un segno dissonante ma martedì mercoledì invece sono i giorni sì per voi perché la luna in un segno amico e invece attenzione anche al weekend perché la luna sarà nel segno opposto quello dei pesci per cui ecco il lunedì e il weekend saranno le giornate più critiche per voi gli amici della bilancia possono cominciare a preparare i festeggiamenti perché dalla settimana prossima giove uscirà dalla dall'opposizione al loro segno quindi viene meno un altro ostacolo viene meno un'altra configurazione che vi ha un po appesantito negli ultimi tempi in questo momento vi sta aiutando plutone che dopo essere stato vostro diciamo nemico per parecchi anni adesso sta invece dando una bella mano a chi è nato nei primi giorni del segno plutone volgerà a vostro favore soprattutto a partire dall'anno prossimo però intanto sta dando i primi segni di appoggio al vostro umore al soprattutto alla fede in voi stessi giove invece ha tolto un po di fiducia nel durante lo scorso anno soprattutto la prima decade e nei primi mesi di quest'anno alla seconda e alla terza decade ma in questo momento ci sono anche venere e marte in posizione dissonante al vostro segno e anche qua sono soprattutto la prima e la terza decade ad essere colpite attenzione quindi al piccoli conflitti alle recriminazioni alle insoddisfazioni soprattutto nelle relazioni di coppia marte se siete della terza decade potrebbe anche sollecitare la gelosia quindi fate attenzione la luna vi sarà amica soprattutto lunedì giovedì e venerdì mentre le giornate a cui fare attenzione ovvero le giornate no sono quelle in cui la luna in capricorno ovvero martedì e mercoledì concentrate dunque impegni importanti il lunedì o nelle giornate di giovedì e venerdì per quanto riguarda gli scorpioni come tutti i segni in questo momento le decadi più sollecitate dagli aspetti dei pianeti sono la prima e la terza sia nel bene che nel male mentre la seconda decade ha una settimana sperimenta una settimana piuttosto tranquilla senza eventi degni di nota magari un po noiosa però insomma molto più tranquilla mentre invece prima e terza decade sperimentano sicuramente una energia più dinamica allora la prima decade ha il supporto di saturno e di venere il che è buono perché aiuta a ricostruire e soprattutto ricostruire la vita sentimentale la vita relazionale insomma questo è il momento più adatto c'è da dire però che la prima decade ha mercurio in opposizione e quindi il pericolo viene dalle parole troppo in libertà o dalla mancanza di concentrazione quindi sarà una cosa che avrà effetti più sul lato del lavoro o degli studi mentre le relazioni sicuramente hanno modo di essere rafforzate e sviluppate in questo momento la terza decade invece ha il supporto di marte che è uno dei vostri pianeti governatori è quello di nettuno marte da una bella spinta energetica sia a livello erotico sessuale che di azioni da compiere per esempio nel lavoro mentre nettuno da quel pizzico di fantasia e genialità che vi aiuta a trovare delle soluzioni alternative però avete l'opposizione del sole questa settimana e quindi potrà essere facile stancarvi sia a livello fisico che mentale avere un pochino di down soprattutto energetico attenzione chi è nato a cavallo tra seconda e terza decade l'opposizione di urano potrebbe essere particolarmente critica ovvero procurarvi qualche sgambetto dovete curare ogni vostro progetto con tantissima attenzione se non volete appunto che ci siano problemi a livello emotivo ottime le giornate di martedì mercoledì e anche di sabato domenica mentre fate attenzione giovedì venerdì con la luna storta il sagittario fa parte di quei segni che devono approfittare degli scampoli del passaggio di giove in ariete quindi un segno ovviamente facente parte dello stesso elemento il fuoco e come per gli altri segni sono i nati nella terza decade quelli che possono approfittare al meglio di questo passaggio che porta espansione fortuna la capacità di essere nel posto giusto al momento giusto purtroppo non ci sono molti altri supporti celesti in questo momento a parte plutone in buon aspetto a chi è nato nei primi giorni del segno e questa è una influenza che dà soprattutto fiducia nelle proprie capacità nelle proprie risorse interiori e anche dà la possibilità di scoprire nuove risorse nuove potenzialità purtroppo gli altri pianeti si trovano o in posizione neutra o in posizione addirittura dissonante e faccio riferimento a saturno e nettuno saturno sta dando fastidio a chi è nato nella prima decade e potrebbe immalinconire un po chi appartiene alla prima decade o dare una sorta di stanchezza più che fisica morale mentale saturno potrebbe anche aumentare il carico degli impegni e delle responsabilità nettuno invece provoca confusione a chi è nato nella terza decade e questo ormai dura da mesi se non da anni resistete ancora un po in questo momento avete anche il supporto di giove quindi c'è un alleggerimento la settimana inizia molto bene con la luna nel segno le altre due giornate si sono giovedì e venerdì mentre attenzione al weekend con la luna un po storta nel segno dei pesci e potreste sentire in modo amplificato tutto quello che secondo voi non va tutto quello che è da rettificare da sistemare e va bene perché vuol dire che diventate più consapevoli ma non scoraggiatevi troppo questo è l'importante il capricorno è un segno protetto da vari lati dai pianeti e ancora c'è qualcosa che forse non va completamente nel verso giusto soprattutto dal punto di vista delle relazioni avete venere opposta marte opposto quindi magari reagite in un modo un po troppo veemente alle situazioni che non vi garbano e poi c'è ancora giove per una settimana dissonante ma poi si trasformerà in alleato anche giove e in questo momento come alleati avete mercurio urano sole e quindi vi danno una grande carica vitale mentale intellettuale per far fronte a ogni difficoltà che possiate incontrare ma non solo avete anche l'appoggio di saturno e nettuno quindi se siete della prima decade le vostre risorse questa settimana sono soprattutto quelle mentali intellettuali comunicative ma anche di portare avanti progetti importanti e duraturi se siete della terza decade nonostante qualche conflitto avete le risorse e il dinamismo per far fronte a qualsiasi cosa anche per voi è la seconda decade quella meno toccata dagli aspetti planetari e quindi chi appartiene alla seconda decade ha una settimana molto più tranquilla molto meno movimentata a livello emotivo una settimana molto stabile la luna nel vostro segno martedì mercoledì in un segno neutro gli altri giorni e in un segno a voi positivo durante il weekend quindi sicuramente il weekend sarà il momento più felice della settimana per voi capricorni in ogni caso l'umore non vacilla mai è sempre molto stabile e molto positivo anche gli acquari devono approfittare di quest'ultima settimana in cui giove è in un segno positivo per l'acquario ovviamente questo riguarda soprattutto i nati nella terza decade che hanno quindi questo momento di espansione di apertura e anche di fortuna dalla settimana prossima giove si porrà in posizione dissonante quindi cercate di concludere le cose importanti proprio questa settimana in questo momento a parte plutone nel vostro segno e questo sta influenzando ovviamente chi è nato all'inizio nei primissimi giorni del segno perché plutone è a zero gradi del vostro segno e plutone sarà una presenza fondamentale importantissima nei prossimi anni un'influenza molto profonda e magari poco percepibile dal punto di vista razionale nella coscienza perché lavora molto sull'inconscio plutone però vi darà veramente grandi opportunità di crescita vostra personale e in tutti i campi della vostra esistenza per il momento dovete resistere ancora un po anche perché ci sono tanti pianeti dissonanti e parlo faccio riferimento ai pianeti che si trovano in questo momento nel toro soprattutto urano che è in questo segno già da un po di anni e vi sta infastidendo notevolmente ma anche mercurio che vi toglie concentrazione che vi fa dire magari delle cose sbagliate alla persona sbagliata e il sole che vi toglie un po di vitalità un po di energia quindi non intraprendete cose grandiose impegnative no dedicatevi alle piccole cose della vita quotidiana in questo momento senza avere grosse aspettative insomma tenete la rotta ma mantenetevi sotto costa non prendete il largo dal punto di vista emotivo comunque una settimana piuttosto buona con la luna in segni a voi amici nel vostro segno o comunque in segni neutri in particolare le giornate più positive sono il lunedì il giovedì e il venerdì ed eccoci al segno che non teme rivali in questo momento perché ha solo riceve solo aspetti positivi i pesci i pesci in questo momento stanno ospitando saturno e nettuno due influenze quasi opposte ma complementari saturno da radicamento capacità di essere pragmatici concreti e nettuno esalta le qualità dei pesci ovvero la fantasia la capacità di vedere oltre ma a rafforzare una tendenza insolita per i pesci a essere concreti e a realizzare nella vita vera insomma quotidiana ci sono anche i pianeti che stanno passando nel toro quindi urano in modo particolare si sta occupando di chi è nato tra seconda e terza decade il sole da vitalità e mercurio da quel pizzico di genialità in più anche una capacità comunicativa espressiva rafforzata e poi ci sono anche i pianeti nel cancro che vi stanno aiutando e questo dal punto di vista più relazionale affettivo con una venere in buon aspetto a chi è nato nella prima decade mentre marte da quella spinta energetica e vitale che da una mano a chi è nato nella terza decade anche per i pesci la seconda decade è quella meno sottoposta a transiti quindi diciamo più tranquilla con meno eventi significativi che si verificano però sicuramente è il segno più fortunato di tutti in questo momento a meno che ovviamente non abbiate poi nel vostro tema natale personale dei pianeti in altri segni o decadi che invece ricevono degli aspetti un po difficili e quindi ovviamente questo bisognerebbe fare un tema natale una consulenza specifica per capire che cosa va e che cosa non va dal punto di vista emotivo la settimana può iniziare con il piede storto il lunedì ma si raddrizza subito da martedì con una luna nel capricorno quindi un segno amico e ancora di più nel weekend con la luna nel vostro segno cari pesci e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monica www.monicaamarillis.com